Sono pronto, adesso sto per scendere, mi metto la giacca, probabilmente metterò una camicia bianca perché mi hanno fatto notare che ogni tanto mi devo cambiare, perché sono sempre di nero, sono come i preti. Tutto alla grande, tutto bene, volevo ringraziarvi perché so che il pezzo sta piacendo. Cioè, in realtà ringraziarvi, se il pezzo vi piace vuol dire che il pezzo è bello, vuol dire che il pezzo arriva e dice quello che deve dire, è ovvio che vi ringrazio. Non ho quasi il coraggio di chiederlo, però vi vorrei farlo sentire anche domani sera, anche se va comunque tutto bene. Poi, vedete voi, io un pensiero ce lo farei, ne vale la pena. Ciao. Ciao. Ciao.